Pilozzi, Moscat, di qua, mi pare che ci siamo, Grassi, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Poiché sono stati precedentemente accantonati due emendamenti riferiti all'articolo 4, non procederemo alla votazione dell'articolo. Possiamo invece procedere con gli articoli aggiuntivi 4.02 di vita. Parere contrario di Commissione e Governo, è aperta la votazione. Ci siamo tutti? Onorevole Covello vuole votare? No. Ok. Tartaglione ha votato, Braga ha votato, Giuliani è chiusa la votazione. La Camera respinge. 4.03 di vita. Parere contrario Commissione e Governo, è aperta la votazione. Folino. Secco. Secco. Ciraci. Dilello. Baruffi. Rotta. Avete votato tutti. Avete votato tutti, mi pare... Micillo. Chiusa la votazione. La Camera respinge. La Camera respinge. Passiamo al 4.04 di vita. Parere contrario Commissione e Governo, è aperta la votazione. Arlotti. Onorevole Ciroci, onorevole Ciroci, vuole votare? Grazie, Presidente. Con questi emendamenti aggiuntivi, 4.050, 4.01, 4.051 e 4.052, ci si occupa della parte sanzionatoria di matrice penalistica di questo provvedimento. Bene, nel tracciare un percorso possibile per dare a questo provvedimento anche questa caratura, sono state seguite vie diverse. Grazie, Presidente.